amici cari stiamo nel festival internazionale tour film festival questo è tutto il programma amici che l'abbiamo stampato dal 29 settembre al 3 ottobre 2021 hotel san giorgio viale giuseppe garibaldi 34 civile vecchia roma tutti i programma tutti i programmi fra poco che lo faccio leggere amici faccio leggere tutto vi faccio leggere tutta amici cari senza fretta che belle soddisfazioni di vita amici belle soddisfazioni di vita dal 29 settembre al 3 ottobre 2021 stiamo al festival internazionale tour film festival 29 a 3 ottobre hotel san giorgio tutti i programmi adesso vi faccio vedere tutti i programmi amici tutti i programmi aspettiamo un altro pochino chi entra qualcuno in diretta così la mia rinascita regia di marco zollo e con la partecipazione straordinaria di alfredo quintiere sarò ospite anche ciro coccozza l'attore che lo saluto il 3 ottobre ore 10 di mattina vi faccio leggere adesso tutti i programmi amici tutto il programma vi faccio leggere tutti i programmi amici cari iniziato a leggere iniziato a leggere eccoci qua eccoci qui sì eccoci qui eccoci qui eccoci qui allora vi faccio leggere il 29 settembre ore 20 apertura ufficiale leggete leggete attentamente tutto leggete attentamente tutto amici leggete 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 pure antonio all'elio come vedete che c'è il 29 guardate la famosa andrea è un festival molto 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 importante amici cari molto anche andrea roncato tantissimi veramente tantissimi questo è ben di no poi giovedì 30 settembre guardate leggete attentamente leggete leggete attentamente leggete leggete attentamente attentamente leggete 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 questa è la prima pagina questa è la prima pagina o andiamo a vedere la seconda pagina questa è la prima pagina tutti tutti i cortometraggi di questi grandi famosi personaggi ok e poi questo è giovedì 30 continua qua giovedì 30 leggete attentamente c'è anche la mia rinascita il mio cortometraggio di 12 minuti la regia è stata mia e di alfredo quintiero i 3 ottobre sono ospite vi faccio leggere adesso vi faccio leggere adesso vi sto facendo vedere ancora il 30 settembre leggete attentamente tutti gli ospiti amici di un certo livello di un certo livello vedete ok venerdì primo ottobre comincia dalle 14 leggete leggete tutti i nomi americani perché ci sono anche film americani ci saranno tanti americani italiani ecco qui ok andiamo alla terza pagina la terza la terza pagina attimino questo è del primo ottobre che condina qua leggete leggete tutti i nomi famosi provoca arriviamo ai 3 ottobre quando ci sono io con l'attore ciro co cozza ospite a e con alfredo quintiere che siamo tutte e tre ospite che ci fanno una bellissima intervista e poi proiettano cortometraggio sabato 2 ottobre leggete leggete attentamente leggete leggete attentamente questo è tutto il programma stampato è domenica 3 ottobre finalmente ore 10 proiezione opera fuori concorso salamichin ecco il figlio del boss è il primo regia di isabella questa è una e poi la mia rinascita e l'hanno scritta anche in americano perché la ci sono tanti americani italia 2021 regia di marco zollo queste sono soddisfazione queste sono soddisfazione amici queste sono soddisfazione amici e adesso si comincia a fare seriamente la mia rinascita la mia rinascita è marco zollo regia di marco zollo la mia rinascita questo è tutto il programma il resto del programma ve lo faccio vedere ecco voi un po di raffreddore eccoci qua anche in a guardate ci sono di dei cinesi film cinesi perfino amici siamo mondiale a questo festival carissimi amici leggete e con ci arriva fino alle ore 16 le proiezioni ok a posto il noi veniamo come secondo alle ore 10 di mattina vedete la mia rinascita di marco zollo guardate queste sono soddisfazione tutti programma stampato stampato ok e che dire amici siamo soddisfatti veramente contenti va di raffreddore amici questo tutti programma amici questo tutto il programma questo non ve l'ho fatto vedere la mia rinascita la mia rinascita regia di marco zollo il 3 ottobre il 3 ottobre al film festival guardate queste sono belle soddisfazioni anche in americano l'hanno scritto regia di marco zollo tutti ospiti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti